Il rap nel sangue, 26 anni e un futuro tutto da scrivere. Lui è Douglas, un giovane cantante emergente di Egrigento. Il suo sogno è quello di sfondare nel mondo della musica rap, ad ogni costo. Una passione nata fin da piccolo e coltivata con sacrificio. La musica è stata un ingrediente importante in ogni momento della sua vita. Douglas ha deciso di farsi conoscere dal grande pubblico della rete con il suo cliccatissimo primo singolo, Deja Vu. Da sempre, da quando ero piccolino ho sempre avuto questa cosa di scrivere, di creare sempre parole o frasi in dei concetti molto ristretti. Quindi c'è una foto di quando avevo 5 anni che ero tutto vestito da rapper con il cappellino. Non è un'età 5-6 anni, 7 anni. L'ho scoperto vivendo. In poche settimane dalla pubblicazione del video riceve consensi e successi. La promozione parte dalla rete, ma non solo. Sto cercando di pubblicizzarlo con le serate e condividendo tramite amici, televisione e altri social network. Una di queste serate dovrebbe essere in Calabria. Più persone ti conoscono, giustamente, più diventi, tra virgolette, importante, e più persone ti seguono. Come ogni artista cerco di essere il più grande possibile. Douglas ha un grande sogno nel cassetto. Fare un concerto davanti a tante persone sarebbe il top, però piano piano ci dovremmo arrivare. Questo è uno dei sogni. Grazie. 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 Grazie.